oh però ragazzi bentornati in un'altra parte più scala gaming e ci sei sei carichissimo minchia zio ho ucciso uno che bello c'è c'è nel senso l'ho ucciso uno di quattro magari no ma gli altri sono morti per caso però quello proprio lo volevo uccidere va bene ragazzi allora come al solito per ritornare al discorso del titan potete di fatto fare la stessa cosa con l'ogre però tenete presente che al posto di avere qua sotto l'auto espulsione carica rapida scatto che non vi salva un cazzo potete fare perché non vi salva un cazzo perché l'ogre è lento è inutile che fate lo scatto che si ricarica uno solo quindi se incontrate tutti gli altri titan perdete di base in velocità intendo potete mettere per esempio l'auto ricarica rapida che il tuo il sistema di ordini si ricarica più facilmente quindi potete lanciare più missili e poi anche il gran pugno al posto dell'auto espulsione che cosa il gran pugno lui praticamente si carica tipo street fighter e tira un pugno che dava un sacco di energia tenete presente che se vi trovate avanti gente un pochettino sgamata questa cosa non vi servirà assolutamente a niente perché la gente un attimino sgamata quando vi vede che vi state caricando il gran pugno si sposta hai scoperto cosa sono generazione generazione tu praticamente quando arrivi a livello massimo puoi riniziare da capo ti viene quella roba di e rinizi un'altra volta andare su di livello un pochino più veloce quindi man mano che ti fai generazione 2 generazione 3 generazione 4 quindi se trovi delle persone con generazione che ne so 10 significa che loro 10 volte sono arrivati già 9 volte scusa sono arrivati già a livello 50 e la decima sono a livello che vedi lì quindi ragazzi ha uno scopo no la gloria ma in verità io non lo faccio opposto perché la gente vede me mi dice o livello 50 sono scarsissimo in verità gli faccio un culo quadro comunque ragazzi questa la gioca jo quindi è il tutorial di jo quindi vedrete insomma uno pseudo noob uno che ha appena iniziato a giocare quindi non stupitevi se non vi fa raga la terza partita della mia vita è la terza partita della sua vita state buoni e roba del genere è un tutorial perché cerchiamo un attimino di dare qua e la qualche consiglio allora non andare subito lì stai qua dietro fidati aspetta un secondo qua dietro aspetta adesso si ricarica capo adesso con x adesso vai la dove vedi quella torretta lì fai un a terra qua sopra hanno già attivato loro la torretta ok questa torretta quando ti avvicini lì in non fare il giro lungo perché se becchi uno con le armi a distanza ti fotte attiva il radar questo si guardati intorno guarda di là c'è solo questa musica che mi sta facendo cagare in mano perché mica mica stavano giocando ad outlast qua c'è un tipo sketch sketch ma lancia la sketch e lì in mezzo un consiglio lancia la sketch e lì in mezzo l'hai sganciata sbagliata e lo so fa ok perché è capo sbagliato cazzo ma perché non l'hai fatta se detonare lo stesso magari lo pigliavi e ma ammazzare i miei no 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 non ce la fai ok ok sorry pensavo che tanto che uccide me pensavo che ci dovesse anche gli altri ok oh hanno preso bravo capo per un problema attiva il radar futuro sa apro dotati KN ! vici un altro stronzo n alloranda un pilota anche per esta troppo when Gio guardati Guardati bene intorno Perché possono arrivarti da questi punti qua Ah c'è un tipo là No è un alleato Sta probabilmente arrivando Un titan Allora qua dietro C'è un pilota guarda la mappa Vedi che ogni tanto vengono E' entrato uno c'è ancora una scarica sketch Sì non sciuparla Lanciala lì in mezzo Lanciala lì in mezzo Minchia colpo No Eh minchia l'ho missato Minchia quanto mi prudono le mani Questa che era tipo stuprata facile Cioè tipo c'è T'è venuto con le spalle Eh ho capito ma Non avevo Non avevo le Non avevo le munizioni Quando ho sparato ho caricato Ma tira di line scarpata Eh le l'ho tirata ma non l'ho preso Eh cazzi devo dire Sparo e ricarica Ma che te frega Ma non Ma frega Ma non capisco subito se sono bot Che cazzo è quello E' alleato E' alleato Pilota Eh l'ho visto L'ho visto ma l'ho mai scappato Lo sai che ti chiede C'è un pilota dietro C'è un pilota dietro Fa il giro Fa il giro Lo vedi il pilota Vedi che stuzzica Lo vede Schetzel Lancia una schetzel Perché questo si iette adesso Togli la mano Allo scherzo Vai 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 Adesso adesso Ma perché Vabbè l'ho ucciso lo stas C'era uno là dietro Vai là dentro Lancia una schetzel Un coltivo Vai là Probabilmente là Probabilmente là Va togli quella mano Abbiamo perso Charlie Ok Quei è un pilota L'ho ammazzato L'ho ammazzato anche lui C'è qualcun altro L'ho ammazzato Probabilmente L'ho ammazzato L'ho ammazzato L'ho ammazzato Sembra tipo la famiglia di neri Al cinema Oh oh sta arrivando Stai arrivando dietro Eccolo C'è un titan dietro al culo Volevo dirti Vole quando vuoi il tuo buon cuore Dimmelo Non capisco Non capisco Non capisco Hai aiutato qualcuno Guardati qua C'è il posto E' ho capito Mi guardo qua Ma non vedo nessuno Quello Se ti togli Stai bloccando Sei un ingombro Sei un ingombro umano Eh minchia questo mi viene addosso Cos'è stato quella cosa lì? Passeggero alleato Stai sereno Carica Ricarica 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 Perché lì sta arrivando un pilota Probabilmente l'hanno ucciso Attento Girati verso di loro Vai lì Vai lì Vai lì Vai lì Sgancia il gas Sgancia il gas Questo Questo Sì Ok Guarda quanto gli leva Sparali però Ah ma questo che è un cattivo? Sì Ma non c'era uno Un buono davanti Lo sono inventato Ma se è Vai levati dal cazzo Su Ma non c'era il pilota dentro No Se non ti avrebbe fuoco No 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 Attento attento che sei sullo No No c'è un pilota lì sotto Guarda Sketchel Sono due Sono due Ne pigli due Fra non ho la tua manualità Quello lì è un pilota Sì Bravo C'è un altro di là Eh Io ho capito ma ho paura Non bisogna portare C'è un altro mato fottuto Eh Ho aspettato troppo Ho fatto il giro Eh Ma è normale Tranquillo Stai sereno Sotto attacco No qui non camminare Perché se proprio L'ho scoperto Qualcuno ti becchi Perché Perché lo attivico Eh Perché ho visto un puntino rosso Pensavo che ci fosse un tizio qua vicino Che ti devo dire Stiamo perdendo Bravo Vai vai lì vai lì Cos'è stato Hai spacciato un vetro Tranquillo Salta Salta Visto che ce l'hai fatto Vai 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 lì vai lì Ma no lì dietro c'è un pilota Vedi che c'è un pilota Lo vedi lo vedi lo vedi Lo vedi Ok Hai visto Eh Mamma mia Stai diventando una killer application Vieni un altro pilota Non l'ho ucciso No Titan Guarda che Qua è chiesto Guarda questo pezzo di merda Guarda il campero Andiamo a fottarlo Dov'era Vai lì vai lì Punta alle finestre No è entrato nel Titan Che se ne frega Quella è cattivo Sì No è ancora lì Ancora lì L'hai preso L'hai preso L'hai preso Eh capo E che a sta partita Magari non è No no Non andare nella lube Ok No ma perché ti sei messo in mezzo Su Sganciali la scorreggio Eh è quello che volevo fare Infatti Andate addosso E sganciali sta cosa Il problema è che è arrivato L'altro tipo Che mi si è messo No dovevi tirare il cazzotto E non so come si fa Ah così Ok Ma chi è che sta sparando Ah quello lì Via No vado a ricaricchietti L'oscuro C'è qualcuno che ti sta sparando C'è piloti dietro di te Piloti dietro di te E non li vedo Così non è un pilota Cos'è stato Cosa cazzo è stato Sta sparando un pilota Eh ma non capisco chi era Eh ce l'avevi dietro Ok obiettivo raggiunto Stai fermo Stai fermo Guarda dov'è la navi C'è la spetta Sketchel Bravo Intercettate dispersi Prima che fuggano Tenendo conto che ti ho già messo La partita di nubettare Eh beh Giusto così E' adattivo Qua neanche Cos'è stato Tieni presente che purtroppo Non te li conta Come uccisioni Dopo che è già finito Oh che palle Voglio saltare lì so Uno Due No eh Perché non salta Adesso ce l'ho fatta Ok Sono di là Di là Non ce l'ho fatta Pronto per le statistiche Sei bello carico Per vedere Cosa avrò fatto Dai un po' Nercisi Minchia Positivo Ratio positivo Cazzo Cioè non ci posso credere Minchia se andavo io Facevo 20 Di strozzo Eh no Guarda che questi sono dei nub Minchia se ci sono ancora loro Nota bene che ci sono Un paio di persone Che sulla carta Dovebbero essere bravi Eh Dai sei stato bravo E' questo E' questo E' questo E' questo E' questo